Quando si affronta lo studio dei nomi latini è ben aver chiaro una cosa fondamentale. Ciascun nome è formato da una parte che è immutabile e che ne racchiude anche il significato, che si chiama tema, e una parte invece che cambia, che è la desinenza. Le desinenze sono fondamentali perché tra rosas e rosarum c'è una bella differenza. Le desinenze servono ad indicare la funzione logica, cioè a quale complemento, a quale elemento della frase corrisponde il termine in uso. Il latino non ha gli articoli, pertanto è necessario comprendere a partire dalla desinenza quale funzione nella frase ha il sostantivo in uso. Per esempio, rosas corrisponde ad un accusativo plurale e si traduce le rose. Rosarum, invece, è un genitivo plurale e si traduce delle rose. I casi latini, è bene dirlo subito, sono sei e sono in questa successione da imparare. Ciascuno corrisponde ad una funzione logica. Il nominativo è il caso del soggetto. Il genitivo è il caso del complemento di specificazione e risponde alla domanda di chi, di che cosa. Il dativo è il caso del complemento di termine e risponde alla domanda a chi, a che cosa. L'accusativo è il caso del complemento oggetto, il vocativo il caso di vocazione e l'ablativo racchiude tutti i complementi indiretti. Distinguiamo, infatti, tra complementi diretti, che sono quelli senza preposizione, e complementi indiretti, invece, che hanno la preposizione. Così, ad esempio, l'ablativo singolare della prima declinazione ha la a lunga e nella traduzione dovremmo dire, per esempio, con la rosa come un complemento di mezzo. Ma vediamo insieme quali sono le desinenze della prima declinazione. Il nominativo singolare esce in a, come il vocativo singolare. In entrambi i casi segniamo la breve sulla vocale. Significa che nominativo e vocativo hanno la vocale breve, la cosa importante e la riprenderemo in un secondo momento. Mentre invece l'ablativo ha la a lunga. Il genitivo, il dativo singolare, il nominativo plurale e il vocativo plurale hanno tutti la desinenza ae. In latino teniamo presente che ae si pronuncia e. L'accusativo singolare è in am, l'accusativo plurale in as. Il genitivo plurale è arum. Il dativo plurale, invece, è in is, come anche l'ablativo. Questo significa, da un lato, che la successione va chiarito da subito, deve essere studiata in modo tale da poter essere poi in grado di riconoscere le singole desinenze. Ma in realtà la cosa fondamentale è aver chiaro da subito quali desinenze si possono prestare alla confusione. E in quattro casi, a breve soltanto in due, e is in due casi del plurale. Ai fini della pronuncia non cambia molto per noi tra una a breve e una a lunga. Per gli antichi latini, invece, la differenza era fondamentale perché la a breve si pronunciava in un'unica emissione, la a lunga si pronunciava raddoppiandone il tempo della pronuncia. La cosa importante è perché se noi guardiamo all'accentazione delle parole latine, possiamo anche anticipare una cosa importante. Se noi dividiamo in sillabe questa parola e vediamo che la penultima sillaba porta il segno della breve, significa che l'accento non può posarsi sulla penultima sillaba, ma si ritrae. Per questo la parola si legge consulis. Invece, se prendo un'altra parola che è libertatis, divisa in sillabe, è riscontrando che la penultima ha il segno di lunga, in questo caso l'accento si posa. E questa è la legge della penultima, che regola la pronuncia delle parole latine. Riassumendo, una parola latina, se ha la penultima sillaba lunga, l'accento si posa. Se invece la penultima sillaba è breve, l'accento si ritrae sulla terz'ultima. I nomi vengono sempre enunciati con la desinenza del nominativo e quella del genitivo. I nomi della prima, rosa, rose, nauta, naute, magistra, magistre, e così avanti. Quanto al genere, in latino distinguiamo tre generi, il maschile, il femminile, e poi si aggiunge anche il neutro. La prima declinazione comprende nomi, in ampia parte, femminili. Sono pochi i maschili. Per esempio, nauta, naute, il marinaio, agricola, agricole, il contadino, pirata, pirate, il pirata, o incola, incole, l'abitante. Facciamo qualche esempio. Magistris. Separo is. Sul mio schema posso verificare che is lo trovo al dativo plurale e all'ablativo plurale. La traduzione può essere alle maestre o con le maestre. Dipende dal contesto. Discipulam. Isolo la desinenza. Am corrisponde a un accusativo singolare, quindi la discepola, complemento oggetto. Pirata. Ablativo singolare, quindi con il pirata. Rosarum. Isolo la desinenza. Arum mi porta al genitivo plurale. Delle rose o anche di rose.